Ander Thomas Meeves Thomas, ti faccio tanti complimenti Io dopo ciò anche tra i racconti emozionanti di Quinto che ha parlato tanto di te, saluti tutti gli amici che ti seguono, tutti i tuoi fans Dove stanno? Qui, stanno qui Si, ma sta filmando Thomas Internet? Si A Thomas Grande Thomas Meeves Grazie Grande, grande Sei un grande Ciao Thomas possiamo fare una foto al mio? Eccoci Thomas